Una serata in compagnia di amici trascorsa Fano è finita per trasformarsi in un incubo. E' quanto accaduto ad un 62enne di Chiaravalle che giovedì scorso si è recato in piazza Andrea Costa per trascorrere una serata in allegria fra amici, ma ha finito per essere aggredito e rapinato in pieno centro storico. A meno di una settimana di distanza però i carabinieri di Fano hanno individuato e arrestato il responsabile. Si tratta di un 27enne nigeriano senza fissa dimora fermato con l'accusa di rapina gravata. I fatti dicono che era da poco trascorsa la mezzanotte quando il 62enne in questione, intento a camminare a piedi per il centro, veniva avvicinato dal giovane di colore per la richiesta di una sigaretta. Il tutto all'altezza del supermercato Conad di via Froncini. Ricevuta la sigaretta offerta, il nigeriano ha cominciato a seguire la vittima prescelta fino a un cantiere poco illuminato reclamando il portafogli, strappandogli la maglietta e colpendolo con un corpo contundente. Ottenuto il portafogli e scaraventato a terra il 62enne, il ladro si è dileguato rimediando appena 40 euro e un bancomat. Il malcapitato è stato così medicato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto alla richiesta di soccorso, così come sono intervenuti i carabinieri allertati da un testimone. Nel luogo dell'aggressione è stata ritrovata una bottiglia rotta usata come oggetto contundente d'aggressione e l'aiuto dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati presenti nella zona hanno permesso di ricostruire l'identikit dell'aggressore e anche il suo percorso, visto che su Viale Colombo è stato pure ritrovato il portafoglio rubato e svuotato del contante. Ricostruito il profilo del responsabile, le ricerche dei carabinieri si sono concentrate nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini extracomunitari e il sospettato è stato individuato sabato mattina in via Montevecchio da una pattuglia della stazione di Fano. Il giovane nigeriano è fuggito ancora prima di essere avvicinato, ma poi è stato intercettato nell'inseguimento lungo via dell'Arco d'Augusto. Gli elementi raccolti hanno portato ad accertare le responsabilità del nigeriano sul quale gravavano già due ordini di espulsione mai ottemperati.